Ma cosa c'è? Apri. Ma era nella cucitura? Sì. Dei pantaloni? Sì. Ascici. Ma continuo, continuo. Ce n'è ancora? Sì. Strappalo, strappalo. Prendi la forbice. Perfetto. Alla questo punto controlliamo tutti i pantaloni entrati. Ottimo. Taglia un altro po' qua. Non credi. Non credi. Mettono, mettono. Stai facendo? Mettono, già. Sì, sì. Altro pantalone, sempre dello stesso soggetto. Passato a macchina. Benissimo. Passato a macchina. Mettendo l'asice, tutto asice. Per non valere la differenza di cucitura. Sì, sì. Allora. Vai. Calma. Calma. Lo che stiamo vedendo, la cucitura non si nota assolutamente, è ricucita a macchina. Taglia, taglia. Per quanto riguarda, è riccistenza. Perfetto. Grazie a tutti